Oggi è una bella giornata per la ricerca in premologia, siamo a Milano, dove oggi si è svolta la cerimonia di presentazione e poi dove sono stati assegnati i vincitori del bando Aipo ITS dedicato proprio alla ricerca sulle malattie respiratorie. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con AstraZeneca, noi siamo qui proprio nella sede di questa azienda farmaceutica e voglio farvi conoscere il secondo classificato, il dottor Francesco Bastianelli che ci presenterà la sua iniziativa, il suo progetto. Senti Francesco, prima di parlare dello studio ve lo chiederti da quali considerazioni siete partiti, qual è un po' il background del vostro progetto? Sì, siamo partiti dalla considerazione che l'emersione del paziente con asma grave è fondamentale e è fondamentale lavorarci perché, come ci dicono i dati dell'OMS, come ci dicono comunque i dati epidemiologici, è presente ancora un sommerso che dobbiamo in qualche modo far venire a galla. Questo è... Certo, e senti invece gli obiettivi del vostro lavoro quali sono? Gli obiettivi sono finalizzati appunto all'emersione, cioè tramite questo nostro chatbot, questo nostro software con cui il paziente diventerà un'applicazione, quindi un'applicazione da utilizzare con uno smartphone, quindi qualcosa di pratico, di user friendly, di semplice per il paziente, interagendo con questo dispositivo saremo in grado di estrarre una probabilità clinica di asma non controllata e o grave. E in questo modo al paziente verranno fornite tutta una serie di informazioni per migliorare la gestione complessiva della patologia e anche informazioni sui centri di riferimento toscani, grazie a un progetto pilota che è già partito lo scorso anno, ai quali il paziente si potrà rivolgere, sarà quindi ben indirizzato. Senti, il chatbot a quali domande riuscirà a rispondere e come farete per validarlo, perché naturalmente le risposte devono essere corrette scientificamente, non solo dal punto di vista logico. Sono già state selezionate 25 domande da triplomologi ed un allergologo con esperienza nella gestione dei pazienti con asma grave. Queste 25 domande verranno validate tramite una metodologia, appunto un metodo DELFI, dove verranno coinvolti un più ampio panel di esperti che dovrà esprimere proprio il loro livello di accordo tramite una scala e le domande che verranno poi elaborate da un algoritmo di intelligenza artificiale per la creazione del chatbot finale, saranno solo quelle validate da almeno i due terzi, cioè dal 66,6% di esperti. Senti, voi siete dei medici, non siete dei tecnici informatici, chi vi farà questa parte? Ci aiuterà un ingegnere informatico con esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale applicata in campo medico. Siete un'ottimissima domanda, il chatbot a vostro parere sarà un qualche cosa di pubblico che chiunque potrà autosomministrarsi oppure sarà mediato per esempio dal medico di famiglia? Cerchiamo di diffonderlo con tutti i mezzi possibili, anche eventualmente il farmacista che prescrive il farmaco, che distribuisce o comunque che consegna il farmaco al paziente, se informato adeguatamente di questa possibilità, sarebbe bello che anche lui parlasse al paziente e prospettasse al paziente questa possibilità in più. Quindi più se ne parla meglio è? Sì, più appunto sì, esattamente. E ci tenevo, se possibile, a ringraziare la dottoressa Pinelli, la mia primaria, e soprattutto Manuela Latorre, che è la nostra responsabile dell'asma grave, che è stata fondamentale a dire poco per sviluppare questo progetto.